Coach Piero Cohen, l'Europa Vinichietti consolida definitivamente la seconda posizione in virtù di un derby dominato dall'inizio alla fine. Sì, l'abbiamo dominato effettivamente dall'inizio alla fine, era una partita comunque da temere. Ragazzi, avevo detto che questa partita poteva essere un po' un esempio di un inizio di play-off, dove pensi che ci sia sempre una possibilità ulteriore per il raggiungimento dell'obiettivo e questo spesso ti porta fuori strada. Invece i ragazzi hanno risposto bene, quindi questo mi fa ben sperare. Secondo me significa che per i play-off siamo pronti e questo è un bellissimo segnale. Forse si può cadere un po' nel banale, però bisogna mettere in risalto sempre gli stessi aspetti. Ottima difesa e ottima anche distribuzione dei punti. Oggi c'è stata un'ottima difesa. All'inizio abbiamo fatto un po' a fatica perché eravamo un po' lentini nell'esecuzione dei movimenti o nella transizione. Quando abbiamo cominciato ad accelerare, anche in attacco, abbiamo trovato delle buone soluzioni. In difesa abbiamo sempre tenuto molto bene, quindi un'ottima gara. Prima i nostri microfoni, Giallo Reto analizzava questo aspetto e abbiamo rimarcato anche l'importante break di Todor Radonic che ha fatto il suo esordio casalingo nel migliore dei modi. Sì, avevo detto a Giulianova che era stato già un ottimo investimento. Oggi direi ancora di più lo possiamo dire. Quindi anche le scelte sono state mirate, sono state direi ottimali dal punto di vista dei risultati e dell'economia della squadra, anche perché questo ci ha permesso anche oggi di mantenere un bellissimo equilibrio. Ecco la lunghezza del roster, nonostante l'assenza di Migliori e forse Guei a mezzo servizio, l'Europa Vinichedi ha dimostrato appunto di valere tanto in vista anche dei play-off. Sicuramente in quest'ultima parte di campionato il fatto di avere la possibilità di ruotare 9 giocatori, adesso addirittura 10, ma anche se in questo momento in realtà siamo in 9 perché Franco Migliori si è subito infortunato, quindi in realtà stiamo continuando a girare in 9. e si è rilevata una carta estremamente importante e quindi, ripeto, le scelte sembrano darsi ragione. Domenica si va a Sansevero, una partita che non interessa per quanto riguarda la classifica, ma forse per l'orgoglio sì, per provare a testare veramente la forza di questa squadra. Beh, sicuramente con Sansevero è un test importantissimo, complicatissimo, perché giustamente Sansevero ci tiene particolarmente a questa gara e noi, anche se ormai abbiamo acquisito la seconda posizione, andremo giù per fare una bella gara sicuramente.